Arresto convalidato per Iaia Sumahoro, il 26enne della costa d'Avorio, accusato della terribile aggressione avvenuta all'alba di lunedì in questa casa di Cartura. Erano le 5 quando lo straniero richiedente asilo forza una finestra per entrare nella casa di Luciana Spigolonna, 55 anni. La donna, che vive con due fratelli disabili e che da qualche anno ospita nella casa accanto un gruppo di migranti, tra i quali in passato il suo presunto aggressore, si sveglia. Inizia a girare per casa, in giardino si imbatte nel giovane. Lei urla, lui le tappa, occhi e bocca, la spinge in casa, le chiede soldi, la sbatte contro il letto, poi fugge. Luciana chiama i soccorsi, è ancora in ospedale, a due costole rotte. Un animo buono in suo racconta la vicina e amica. Luciana, ha aperto con fiducia le porte di casa e cercato di costruire integrazione. La Luciana la chiamavano mamma. Avevano anche costruito un rapporto molto bello con Luciana. Lei li considerava figli e loro la chiamavano più mamma. Non aveva paura Luciana, è un tipo aperto che si fida delle persone. E mi diceva, ma chi butto che venga qua da me? Chi butto che venga qua da me? Ma insomma, chiuditi a chiave, chiuditi. Io non sarei così tranquilla se li hai sulla porta andare nel campo, perché lei ha un campo dietro la casa, l'orto, eccetera, e lasciare aperto. Non ha parlato il giovane ivoriano che attualmente si trova in carcere. Non viveva a Cartura da qualche mese ed era ospitato a Padova, dove lo hanno trovato i carabinieri della compagnia di Abano.